ciao cari sposi anche oggi 26 gennaio siamo qua con il podcast di matrimonio cristiano.org nell'articolo di oggi c'è una bella riflessione di alessandra e riccardo paggi dal titolo corsi fidanzati c'è davvero tutto ciò che si deve sapere via lo stacco musicale e poi partiamo con l'articolo quest'anno stiamo frequentando il primo livello del corso per direttori spirituali per coppie sposate proposto dall'ateneo pontificio regina apostolorum questo corso che si sviluppa su due livelli è stato pensato da don renzo bonetti fondatore del progetto mistero grande ed è un'ottima proposta per la varietà di argomenti trattati legati al sacramento del matrimonio e per la qualità dei relatori abbiamo ascoltato insegnamenti legati al discernimento e alla coscienza di coppia alla sessualità alla spiritualità e alla dimensione sacramentale del matrimonio cristiano durante l'ultima giornata di questo corso il relatore è stato don salvatore bucolo direttore della pastorale della diocesi di catania il tema da lui esposto era legato all'identità e missione della chiesa domestica una sua affermazione ci ha particolarmente colpiti nella diocesi di catania abbiamo ormai la scuola per i lettori per gli accoliti per i catechisti ma la scuola per ministero coniugale e familiare dov'è io per diventare sacerdote ho studiato sette anni e sono stato missionario quando ci siamo sposati avevamo da poco perso nostra figlia olga nata e subito salita al cielo al settimo mese di gravidanza come abbiamo scritto in altri nostri articoli è stata olga con la sua breve vita terrena che ci ha partoriti nella fede come noi l'abbiamo generata nella carne olga ha suscitato in noi il forte desiderio del matrimonio sacramento essendo noi allora sposati solo civilmente ci siamo così presentati al sacerdote del paese nativo di mio marito il quale non ci chiese di partecipare al corso fidanzati in quanto si rese conto che superare la morte di un figlio e restare uniti non è cosa da poco subito dopo esserci uniti nel sacramento del matrimonio quando ancora non avevamo una particolare relazione intima e personale con il signore sentivamo ancora una grande mancanza nella nostra vita e nella nostra coppia quella sensazione che avevamo già sperimentato prima di ricevere il matrimonio cristiano si è ripresentata quella di non bastarci più ed era diventata ancora più forte eravamo alla ricerca di qualcosa di più non avendo ancora compreso la centralità del signore gesù nella vita degli sposi un libro ha scoperchiato il vaso di pandora spingendoci ad iniziare permetteteci la metafora la caccia al tesoro perché chi trova lui trova il re di tutti gli scrigni ed il titolo di questo libro è l'ecologia dell'amore intimità e spiritualità di coppia scritto dai nostri amici antonio e luisa de rosa che però ancora non conoscevamo il libro aveva generato in noi una sete profonda che non veniva saziata dal solo nostro amore così abbiamo recuperato quell'intimo dialogo con il padre ma avevamo sempre più sete di sapere chi eravamo diventati con il sacramento del matrimonio e ciò che era cambiato in noi dio incidenza ha voluto che su facebook vedessimo la locandina di un weekend organizzato dall'associazione intercomunione delle famiglie di cui sono cofondatori antonio e luisa che in quell'occasione si teneva nelle vicinanze di parma quei due giorni intensivi alla scoperta della bellezza di noi sposi cristiani ci hanno permesso finalmente di comprendere col cuore che eravamo tabernacolo di cristo che gesù bambino viveva cullato nei nostri cuori uniti nell'amore responsale mi ricordo che allora abbiamo pensato e magari averlo saputo prima e la gioia è stata talmente grande che ancora oggi quando ci ripensiamo sentiamo un nodo alla gola vi abbiamo portato questa testimonianza per sottolineare come spesso il sacramento del matrimonio venga impartito senza che la coppia abbia la minima consapevolezza di entrare in un mistero veramente grande senza voler attribuire alcuna colpa al sacerdote a cui a cui ci siamo rivolti per celebrare il matrimonio sacramento che come accennato prima ci ha accolto con grande bontà di cuore e attenzione alla nostra sofferenza ci siamo poi resi conto impegnandoci con i corsi e fidanzati in diverse parrocchie che spesso questi ultimi vengono affidati a coppie storiche della parrocchia con parecchi anni di matrimonio alle spalle che portano sicuramente una forte testimonianza legata alla perseveranza e alla possibilità che in un mondo fatto di tanti matrimoni che finiscono in divorzi con la grazia di Cristo Signore è veramente possibile amarsi come lui ci ama per tutta la vita tuttavia queste coppie spesso e volentieri parliamo sempre secondo la nostra esperienza personale senza voler generalizzare non hanno alcuna formazione e preparazione in termini di teologia della famiglia in fondo oggigiorno di corsi d'approfondimento ne vengono offerti una molteplicità gli insegnamenti che intercomunione delle famiglie propone con molta semplicità e verità affinché siano comprensibili a tutti difficilmente si sentono nelle parrocchie né in occasione dei corsi in preparazione al matrimonio né durante gli incontri dei gruppi famiglie delle stesse ci è capitato avvicinandoci ad alcuni gruppi famiglie parrocchiali di ascoltare confronti legati alla lettera di quell'arcivescovo alla lettera ai filippesi a un determinato libro biblico che più che essere insegnamenti legati alla dimensione sacramentale della coppia di sposi erano delle lezio divine adattate alla coppia la nostra idea è che per fare un corso fidanzati visto che spesso si hanno davanti coppie che sono completamente a digiuno a livello di vita di fede che sono conviventi o hanno già figli serva un lessico molto basilare ma allo stesso tempo gli insegnamenti vanno portati con verità non possiamo affermare che la convivenza non sia uno sbaglio perché il fidanzamento è il tempo della conoscenza e del discernimento per capire se c'è compatibilità i rapporti fisici secondo la nostra storia personale essendo un'esperienza totalizzante sfalsano la percezione della realtà dobbiamo avere il coraggio e la carità di dirlo spesso non conosciamo la verità perché non l'abbiamo mai ascoltata come abbiamo sentito dire da padre Raimondo Bardelli durante una registrazione di un suo insegnamento è come se avessimo due belle fette di salame sugli occhi una domanda interessante sulla brevità dei corsi fidanzati odierni è stata posta a Don Renzo Bonetti durante il corso per dilettori spirituali il quale ha risposto che se chi frequenta i corsi fidanzati è convinto di dover imparare solo l'ABC perché ignora quel mistero grande di cui parlavamo prima non capirebbe e percepirebbe come folle un percorso lungo un anno o più in preparazione al matrimonio di conseguenza la nostra riflessione è che essendo i corsi di preparazione al matrimonio estremamente corti sono importanti le coppie storiche con la loro testimonianza di un amore paziente, costante e mite ma allo stesso tempo servono interventi da parte di sacerdoti o coppie che abbiano una determinata formazione perché si corre il rischio che questi fidanzati ricevono in dono un diamante dal padre con il sacramento e lo scambino per un sasso è bene far comprendere alle coppie che il matrimonio cristiano è dialogo, ascolto e perdono ma da soli questi elementi non sono sufficienti affinché i fidanzati arrivino all'altare con cognizione di causa ciao cari sposi ci sentiamo al prossimo podcast ciao ciao ciao